17 e 19, di nuovo più due Lube con Guantorena a servizio che deve sfruttare il suo turno in battuta come ha fatto precedentemente qui Steve Elmar difeso da De Cecco, Guantorena col bug, Henry Klitschke deve regalare la free ball, vediamo come la gestisce Milano con Urnaut, deve attaccare Daldello, deve attaccare Daldello, oggi stiamo vedendo qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, alzata di Urnaut attacca Daldello punto Milano ecco io credo che proprio